amici digi case buongiorno e buon lunedì 28 agosto benvenuti a tutti da gorno oggi vi voglio proporre un appartamento bilocale con questa vista straordinaria in questo momento mi trovo sul terrazzino poi vi mostro tutti i dettagli ad un prezzo incredibile compreso di posto auto a 39 mila euro quindi avete capito bene 39 39 mila euro per un bilocale arredato in questa posizione straordinaria con un'esposizione davvero a sud ovest quindi con il sole che vi nasce proprio a sinistra e che vi andrà poi a essere lì dietro a tramontare quindi davvero in una posizione apertissima ci troviamo a peroli alta che è proprio una frazioncina di gorno qui in alta valseriana o per chi mastica insomma val del riso che è una sotto valle qui a pochi minuti comunque da clusone dalla sede della g case eccolo qua il balconcino il terrazzino dove mi trovo in questo momento arretro leggermente per farvi vedere e mi abbasso pure per farvi capire sia la profondità sicuramente buona per pranzare in due tre persone e poi questa vista che davvero riempie gli occhi oltre che i polmoni anche in giornate calde qui si sta veramente bene sopra gli 800 metri allora io sono sul balcone sono partito dalla parte diciamo più nobile diamo il tempo al telefono di aggiornare la luminosità ed eccoci qua in quello che è un soggiorno angolo cultura di tutto rispetto di grandi dimensioni perché questa non è una palazzina di recente costruzione ma comunque ha pochi anni quindi non stiamo parlando di case del dopoguerra ma anzi sono case dei fine anni 90 guardate qua camino addirittura una stufa a legna ed eccolo qua all'angolo cottura e con una piccola imbiancata sicuramente la casa è in super ordine là c'è una caldaia autonoma a metano quindi assolutamente abbiamo l'opportunità di essere totalmente indipendenti per tutti i dettagli spese condominiali o schede catastali misure in più chiamatemi pure 034623933 per parlare con l'ufficio Isabella usilia rimanderà uno di noi a me Stefano oppure a Emanuele e Fabio Edoardo e vi daremo tutti i dettagli oppure il mio numero diretto 320 0334332 anche tramite whatsapp vi sto facendo vedere tutte le angolazioni possibili di un soggiorno che è decisamente ampio per essere una seconda casa guardate vedete anche il divano a tre posti la cucina tutto tutto davvero in ordine pur sicuramente da personalizzare la vedete il frigorifero e la caldaia autonoma metano io torno nel disimpegno per farvi capire un po come funziona la casa quindi portoncino blindato d'ingresso vedete che c'è il suo ingressino perfetto che vi toglie il freddo d'ingresso e comunque fa da antibagno e entrando poi nella zona giorno vedete subito l'ampiezza che colpisce sicuramente oltre alla vista straordinaria vi faccio una carrellata veloce per farvi vedere l'uscita verso l'incredibile vista di cui gode questa posizione unica qui a gorno quindi davvero chi ama l'idea del silenzio della tranquillità e di una vista e di un soleggiamento straordinario anche in virtù del fatto che fra poco arriverà anche l'autunno quindi avere il sole sarà un super piacere guardate poi la camera da letto camera da letto è davvero incredibile perché non siamo abituati a vedere camere così ampie perché oltre al letto matrimoniale che quasi si perde nella stanza rispetto a tante altre nostre case guardate questo armadio a sei ante enorme si è aperta si è aperta intanto la persiana guardate anche da questa angolazione poi lo spazio che c'è addirittura c'è un altro lettino lì accanto e guardate dalla finestra cosa si vede mamma mia tra l'altro entra marietta che è davvero davvero meravigliosa e non non ci si stanca mai di guardare fuori questi colori questo verde che colpisce tantissimo e fra poco fra qualche settimana poi sfumerà nei vari colori dell'autunno e vi assicuro che qua è un punto straordinario di osservazione a livello di natura mi rimetto ancora nell'angolo per farvi vedere ancora una volta la zona la zona camera guardate che bella qui siamo a un primo piano è primo piano con il posto auto a 39 mila euro poi andiamo qua per farvi vedere il grande bagno guardate il bagno attacco della lavatrice vi ricordo sempre che la lavatrice non fa parte del dell'arredo è un oggetto personale poi a volte lo lasciano comunque e qui c'è lavandino vasca che poi viene utilizzata come doccia water bidet un mobiletto molto grande guardate qua dove c'è il calorifero e la finestra quindi è una zona finestrata più verso nord quindi più ma per il ricambio d'aria è assolutamente ottimo avere anche il bagno finestrato ecco qua vedete che non manca davvero nulla vi faccio rivedere ancora una volta la zona giorno perché vi assicuro se poi verrete molti di voi so che vengono comunque a vederli di persona prima di trarre delle considerazioni però vi assicuro che vista anche dal vivo questa dimensione è davvero molto molto godibile torniamo ancora sul terrazzino guardate che bello mi piace soffermarmi su questi dettagli da lì vedete si arriva a posto auto e eccoci qua nella posizione più unica che rara grazie grazie davvero ancora tutti vi ricordo per questa soluzione prezzo chiave in mano davvero clamoroso 39 mila euro non fatevi sfuggire un'occasione incredibile vi siete resi conto ormai delle statiche sono troppo torride nelle nostre città quindi un punto di fuga davvero per mettersi al riparo da situazioni davvero sgradevoli come sono state in queste settimane a queste altitudini in queste posizioni a una cifra davvero da capogiro quindi 39 mila euro chiave in mano un caloroso saluto da stefano e da tutto lo staff di case